Ciao a tutti ragazzi, sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video Voglio subito aggiornarvi con la situazione di LUNK e Luna Classic Perché le prossime 24 ore potrebbero essere davvero importanti per quello che sta per succedere In questo video ne parliamo subito, voglio anche parlarvi della situazione di LUNK sui grafici Fare una piccola analisi e mostrarvi il prezzo dove potrebbe essere diretto Quindi adesso iniziamo subito Però prima di iniziare come al solito un mi piace per supportarmi Basta un click e il gioco è fatto E se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale Ora passiamo un attimo ai grafici Questo qui è il grafico di LUNK orario Quindi ogni candela è un'ora L'ultima volta che vi ho parlato di LUNK all'incirca era il 30 settembre Eravamo qui E da quel giorno il prezzo ha registrato un più 35% prendendo le ombre E un più 31-30% prendendo le chiusure delle candele Quindi sono percentuali folli Questo perché? Perché si è creata tantissima hype grazie a Binance Sappiamo benissimo che Binance tra qualche ora pubblicherà quante coin hanno bruciato Grazie al loro burn interno Ne ho parlato già spesso nei video precedenti E infatti su Twitter se ne sta parlando tantissimo Hanno fatto anche delle previsioni All'incirca si parla di 12.747.290 token bruciati in un'unica settimana Il periodo va da mercoledì 21 settembre 2022 Calcolati BUSD, USDT e poi anche il totale Fino a sabato 1 ottobre 2022 E ogni lunedì poi viene aggiornato il token Il valore del token All'incirca quindi sono stati bruciati Secondo questa stima che viene fatta da questo ragazzo su Twitter Ma ho letto anche tantissimi articoli Altri articoli al riguardo Su per giù dovrebbero essere stati bruciati Questo amount Questa quantità di LUNK Questo perché è positivo? Perché più si riduce l'offerta in circolazione di LUNK Più il prezzo insieme all'hype che si crea intorno al token dovrebbe salire nel tempo Come al solito ragazzi però non sono mai consigli finanziari Perché investire in LUNK è super rischioso Si fa un più 30% in due giorni Però fa anche un meno 40% il giorno dopo Quindi questo fa capire che se non sapete dove mettere i soldi Quando mettere i soldi Se non sapete leggere neanche minimamente i grafici Potrebbe essere molto rischioso Per quanto riguarda il prezzo di LUNK In questo momento lo sto registrando Vediamo massimi più bassi e minimi più bassi E questo non è positivo da un certo punto di vista Però si sta formando una sorta di canale discendente Adesso ve lo disegno Una cosa del genere fatto male sicuramente Però solo per farvi capire Che non sempre questi canali discendenti sono negativi Perché possono anche fare una cosa del genere Ad esempio il prezzo continua a stringersi in questo canale Come sta facendo in questo caso E potrebbe rompere verso l'alto Facendo una cosa del genere Come un ritest E andare sulla prossima resistenza Che sono i 0.39 per il prezzo di LUNK Questo potrebbe succedere senza nessun problema È un pattern da manuale Se prendete un manuale di trading Leggete un manuale di trading per studiare Vedete che questo pattern spesso lo ritrovate Però non sempre per forza viene rotto in questo modo Perché diciamo Il trading è solo una previsione Che viene fatta in base al passato Però in questo caso potremmo anche continuare a scendere Però io sono positivo soprattutto perché tra meno di 24 ore Sulla pagina twitter ufficiale di Binance Vedremo il post con i LUNK effettivamente che sono stati bruciati E quindi il prezzo potrebbe reagire in maniera positiva Non si sa Non voglio creare troppa fomo Non voglio dirvi che per forza il prezzo esplode Perché potrebbe essere anche un'anticipazione delle notizie Questo più 30% E quindi le persone già stanno vendendo E il prezzo continuerà a scendere Però i livelli da monitorare sono questi qui Che mi aspetto adesso Entro oggi potremmo ritoccare gli 0.30 E sugli 0.30 potremmo vedere anche un rimbalzo Perché è un supporto importante che appunto sia la supporto che la resistenza in passato Quindi potremmo fare una cosa del genere E andare addirittura sugli 0.39 Se i 0.39 in maniera positiva sto parlando Attenzione non dovessero reggere Quindi il prezzo è così forte Vediamo volumi assurdi I volumi delle ultime ore sono stati incredibili Come ben si vede qui in basso Quindi sono aumentati Non sono incredibili Dai manteniamoci cauti Comunque i 0.39 potrebbero essere rotti E potremmo ritornare sugli 0.43 Cosa per niente male E lì potremmo diciamo Risalire verso livelli importanti Per il prezzo di LUNK Come in passato Questo qui è il grafico giornaliero Si vede meglio così in questo modo Si capisce meglio quali sono i livelli da monitorare Che non sono impossibili da raggiungere Soprattutto grazie al catalizzatore Che in questo caso è Binance Che ha i volumi più grandi in assoluto Per quanto riguarda il prezzo su CoinGecko Vediamo meno 10% nelle ultime 24 ore Un più 64% negli ultimi 7 giorni Quindi è normale che stai dando un po' indietro il prezzo Ma soprattutto se andiamo su CoinGecko sempre E scegliamo la categoria A volume in 24 ore Vediamo che al Al settimo posto 1,2,3,4,5,6 Settimo posto c'è LUNK Per volume scambiato nelle ultime 24 ore Ed è sopra Solana BNB Bitcoin Cash Cardano C'è Link Si trova i primi posti insieme a Bitcoin CoinGecko in USDT e Ethereum Questo fa capire che c'è tantissima hype ragazzi Ed è importantissimo guardare queste statistiche Per capire realmente che il potenziale c'è Detto questo ragazzi In un attimo passiamo a BitGet Perché spesso vi ho detto che è un'ottima piattaforma Per fare copy trading Però voglio dirvi anche che ora c'è possibilità di fare trading spot Quindi senza leve Con zero fees Quindi non pagate commissioni E soprattutto ancora Per chi non lo sapesse E anche sponsor Adesso ve lo mostro meglio Del Gata Sarai E soprattutto anche della Juventus Quindi è una piattaforma Che ha capitale da investire Per sponsorizzarsi E questo fa capire che anche i nostri fondi Che versiamo su BitGet Sono al sicuro Però spesso vi parlo di BitGet Per il copy trading E qui voglio dirvi una cosa importante Se cliccate su queste impostazioni del menu qui Vediamo che possiamo scegliere Le diverse caratteristiche che il trader può avere Io vi consiglio tra i tag High frequency Quindi un trader che fa spesso trading Pure stable Quindi che non è un trader che fa spesso trading Però fa anche tanta speculazione È più stabile Infatti cliccando su conferma Poi vi viene data una lista E tra i migliori per adesso Vediamo top trader Ovviamente non vi sto consigliando Di investire il vostro capitale E seguire top trader In questo caso Perché non sono mai consigli finanziari Però guardando un po' i dati Guardando un po' le percentuali che ha fatto I gain che è riuscito ad ottenere Rispetto alle loss che sono bassissime Quindi 1901 gains E vediamo 156 losses Che sono davvero pochi rispetto ai gain che ha fatto È un trader che è consistente nel tempo E la costanza è importantissima Quindi per questo potrebbe essere un buon trader Ma ce ne sono anche altri E per questo ancora vi dico Di guardare attentamente questi dati Scegliere le caratteristiche che volete Soprattutto non investire tutto il vostro capitale Nel copy trading Scegliete una piccola parte Secondo me Bitcat per ora Per quanto riguarda le commissioni È la migliore piattaforma Per fare copy trading Di criptovalute E cosa è importantissimo ancora In basso in descrizione di questo video C'è il mio link come al solito Oppure anche nei commenti pinnati Con cui c'è possibilità di ricevere 5% di sconto Sulle fee Secondo per niente male Ci sono anche vari bonus Tutto qui in basso in descrizione Ho anche creato un video specifico In cui parlo di Bitcat Quindi assolutamente guardatelo Date un'occhiata anche a Universo CryptoETF È il mio secondo canale Insieme ad Emilio È uscito un video super interessante Sui semiconduttori Ci sono alcuni ETF Che potrebbero farci guadagnare I bei soldini nel futuro Quindi guardatelo E guardiamo un attimo Il Bitcoin e il Firmary Index Siamo al numero 24 Siamo un po' risaliti fortunatamente Però niente di che Detto ciao ragazzi Grazie mille a tutti Per la visione di questo video Come al solito Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace per supportarmi E se non siete iscritti Iscrivetevi al canale Per rimanere sempre aggiornati Noi ci vediamo presto Con la prossima avventura Ciao a tutti ragazzi Speriamo bene per il mondo cripto E anche per LUNK A presto